Tra Floriana Secondi e Nicolà Vaporidis è già guerra all'isola dei famosi 2022. Durante i daytime di questi giorni Floriana si è scagliata contro l'attore accusandolo di essere un privilegiato. In un primo momento sembrava esserne convinta perché lui è arrivato sull'isola senza essere legato al compagno di coppia e con l'immunità dalle nomination. In realtà non è di peso da lui ma dalle regole del gioco, né è colpa di Vaporidis se Floriana ha trascorso i primi giorni legata a Zequila. Nella corso della puntata di stasera Ilari Blasi ha indagato sullo scontro fra i due. Quando la conduttrice ha chiesto a Floriana cosa ne pensasse delle parole usate da Vaporidis nei suoi confronti, lei è partita a ruota libera e ha raccontato perché ce l'ha tanto con lui. E anche perché lo considera un privilegiato. Quindi ha spiegato che quando erano in hotel, prima dello sbarco sull'isola, la produzione ha chiesto a tutti di consegnare il telefonino. A lei pare sia giunta voce che Vaporidis non avesse consegnato il cellulare, ma era una supposizione. Lo hanno pensato alcuni perché lo sentivano parlare. Mentre Floriana lanciava accuse, Nicolà ha aspettato il suo turno. Chi invece non voleva sentire racconti inerenti a prima all'inizio del gioco erano conduttrice e opinionisti. A loro interessava sapere cosa è successo sull'isola. Quindi Floriana ha spiegato perché pensa che Vaporidis sia un privilegiato. Poco prima infatti ha urlato contro l'attore dandogli del privilegiato ma ha più rusato termini molto forti come, infame. Dunque Floriana ha raccontato che la produzione ha concesso loro di portare un solo oggetto personale sull'isola dei famosi. Lei avrebbe voluto un rosario, ma non gliel'hanno dato. Così come non ha neanche degli occhiali da sole. Ha notato invece che Vaporidis ha un rasoio elettrico. Ilari è subito intervenuta. Mi dicono che il rasoio è per esigenze mediche. Anche Alvin ha frenato Floriana facendole notare che l'attore non fosse tenuto a spiegare pubblicamente il perché di questa necessità. Inoltre Ilari ha chiarito a Floriana che nessuno di loro è privilegiato ma che sono tutti uguali nel momento in cui sbarcano sull'isola. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.